Musica Benvenuti a Occhio ai Giornali, ben ritrovati e buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi Prima di guardare i quotidiani in edicola questa mattina, però il santo del giorno e le previsioni del tempo Sabato 6 giugno, San Norberto Vescovo, il sole è sorto alle 5.26 e tramonterà alle 20.47 Vedete le giornate si stanno incominciando ad allungare, anche le temperature rimangono e permangono su livelli alti 19.9, quasi 20 gradi già a quest'ora della mattina e il cielo è blu, non ci sono nuvole all'orizzonte Vediamo cosa dice la previsione della protezione civile, anche qui dalla cartina vedete sole pieno su tutta la costa Sereno poco nuvoloso però più che altro sui rilievi, precipitazioni appunto nel pomeriggio però sui rilievi e su quelli in particolare meridionali. Vediamo domani domenica, anche qui lo schema è praticamente lo stesso Sereno poco più nuvoloso, consistente l'addensamento sul crinale appenninico e precipitazioni anche presenti sempre nella stessa zona e anche lunedì sembra veramente che abbiano fatto un copio in cola delle cartine esattamente la simbologia è la medesima, quindi insomma cielo sereno e poco nuvoloso, precipitazioni e rovesci soltanto sui rilievi meridionali. Quindi insomma si prospetta un weekend e anche un inizio di settimana all'insegna del bel tempo a tutto favore di quelli che vogliono fare scampagnate o godersi una giornata al mare Entriamo nel vivo dei giornali, partiamo da Fano con il resto del Carlino con un argomento caldo che è stato un argomento caldo anche durante la campagna elettorale per queste regionali 2015 ovvero sia la costa, la difesa della costa e quindi le scogliere. Il progetto per Fano è un progetto da 10 milioni per difendere la costa dall'erosione, approvato dalla Giunta sono pronti i 3 milioni iniziali e Sinistra Unita annuncia presto la festa nel parco, parliamo del parco naturalmente dell'ex aeroporto e quindi nell'articolo qui ci sono spiegati da Anna Marchetta tutte le dinamiche che riguardano appunto questo progetto per la costa. Il PD rivendica il quarto assessore ma l'orizzonte si profila un congresso, il quarto assessore in Giunta ma l'argomento non è stato affrontato in maniera diretta e quindi questa è la pagina anche che riguardava la politica continuiamo sempre sulla pagina di Fano del Corriere del resto del Carlino nessun taglio al bilancio, si parla di conti, l'assessore Cecchatelli conferma sono stati fatti grandi sacrifici e quindi questo è un argomento importante perché insomma tagliare il bilancio significa servizi in meno, spesso e volentieri e insomma i sacrifici sono stati fatti lacrime e sangue abbiamo visto e quindi insomma ci sarà questa nota confortante poi a Fano, emozionati i ragazzi alla cerimonia a Milano, il concorso è stato indetto dal Fondo Ambiente Italiano parliamo degli studenti del liceo Torelli che si nutrono di paesaggi ed Expo li premia bene, bravi ragazzi, ancora dalle pagine del resto del Carlino Fano e Valcesano, quindi la pagina un po' che guarda all'interno siamo a Mondavio, il dopo elezioni anche qui si fa sentire perché auguri a Talè interviene Storoni, il leader della minoranza, ora però butti giù le tasse assaltare domani in piazza la disfida del bracciale, una disfida antichissima e appunto sempre sul fronte della politica a cartocetto per le elezioni il PD gongola per il risultato Marotta, l'approvazione dei contrari al progetto se salario è il sottopasso, chi risarcisce e quindi nell'articolo trovate anche di che cosa si tratta rimaniamo nel resto del Carlino però andiamo sulle pagine che riguardano Pesaro la festa dei Carabinieri, una festa all'insegna anche dei numeri perché è scoperta quasi la metà delle rapine dei 4.900 furti, invece solo il 6% le statistiche dell'arma, 65 arresti per droga e 25 i chili sequestrati vedete nella foto, insomma il momento della cerimonia perseguiti 8.686 reati pari all'83% del reato sono stati individuati gli autori insomma dei reati in 2.287 casi quindi numeri importantissimi per questa arma così cara a tutti pronto anche quasi il provvedimento che autorizza il rientro l'Ercolino a giorni torna a casa ancora il resto del Carlino focalizza l'attenzione su una protesta che si è verificata nel palazzo comunale perché i profughi invadono il palazzo comunale siamo sempre a Pesaro vogliamo la paghetta e diventare rifugiati circa 60 in arrivo dall'entroterra commissioni in ritardo di 8 mesi li vedete qui appunto sotto i portici del comune quasi 2 euro e mezzo è il compenso quotidiano che aspetta loro ma non si dormono fuori dall'alloggio ultima pagina che riguarda Pesaro per il resto del Carlino anche qui come nell'entroterra il dopo politica il dopo lezioni Ceriscioli festeggia col pensiero alla giunta incontro ieri con Comi il segretario regionale spera ma le possibilità sono ridotte intanto anche Ricci ha a che fare con la giunta perché gli è andato via un assessore rienviare la decisione per la giunta e il faro la lista di faro torna alla carica per la presidenza del San Bartolo la testata del Corriere Adriatico invece pone l'accento su Pesaro su una questione di carattere e sicurezza tesoretto delle telecamere intelligenti accessi ZTS e assicurazioni scadute da marzo elevati 150 verbali con sanzioni tra i 500 e i 700 euro le assicurazioni scadute sono una piaga veramente dilagante non solo in alcune zone d'Italia ma un po' dappertutto perché veramente se si ha a che fare con un automobilista che è privo di assicurazione sono veramente problemi per avere il giusto ancora sempre dalla pagina di peso del Corriere la questione che vi dicevo della politica Ricci non sostituisce Biancani che è l'assessore appunto che è andato ha vinto come le elezioni e farà il consigliere in Regione e quindi Ricci ridistribuisce le deleghe e non sostituisce Biancani lavori pubblici a Enzo Belloni e turismo a Daniele Vimini, Falcioni e Nobili rimandati a settembre ancora appunto dal Corriere Adriatico migranti senza soldi né cure protesta in piazza da otto mesi attendono le certificazioni Fano per il Corriere Adriatico anche qui le scogliere piano scogliere di Sassonia presentato in Regione appunto l'intervento sarà effettuato in due stracci di 10 milioni di euro e poi così si guariscono si sguarniscono i servizi in città la protesta del Movimento 5 Stelle il prossimo trasferimento di sette dipendenti comunali da Fano a Mondolfo quindi per i 5 Stelle c'è un rischio di scarsa valutazione sui servizi con meno personale e poi sempre da Fano la chiusura di un locale storico del Lido Fratelli di Teglia non riapre perché c'è crisi la burocrazia nell'articolo di Silvia Falcioni troverete la storia di questa vicenda e chiude un pezzo di storia quindi il Lido si svuota sarà una zona svuotata sempre sul turismo un turista un turista di Varese dice i fanesi dormono su una miniera d'oro poco valorizzata perché non se ne accorgono chi arriva in stazione ferroviaria ha poche indicazioni e quindi lui dice chi viene qui non è accolto da questo punto di vista informativo come dovrebbe come potrebbe perché a Fano c'è una miniera non soltanto di mare di scogliere e di quant'altro ma soprattutto il patrimonio storico culturale è evidentemente sotto evidenziato il turismo a Fano questo è un nodo che lui fa rilevare è l'ufficio turistico è aperto solo poche ore al giorno e quindi dice fanesi puntate di più sull'aspetto culturale della vostra città perché ne ha tanta pesaro per il messaggero giunta Ricci niente nomine il sindaco non sostituirà l'assessore Biancani i lavori pubblici passano a Belloni nella fotonotizia vedete la protesta dei migranti permessi in ritardo la loro protesta e intanto anche anche qui l'attenzione su un fenomeno estivo sotto monte si comincia a parcheggiare sosta libera per la spiaggia ma nel tratto interessato dall'Adriatica la velocità sarà ridotta a 30 km orari insomma questo è sicuramente avvantaggio della sicurezza perché con i parcheggi con il fatto che qualcuno esce dagli svincoli si ferma per vedere se c'è il parcheggio insomma quella è una zona che passaggio dell'Adriatica che durante l'estate nei mesi caldi diventa una zona calda rossa dal punto di vista delle possibilità di incidenti che si verifichino quindi velocità ridotta a 30 km all'ora e poi dalla pagina sempre iniziale del messaggero insomma quella che riguarda il meteo sole e caldo fine settimana da mare la pagina di Fano del messaggero non c'entra la corte la disfida del commercio si scaldano un po' i toni su questa vicenda che ha visto in primis una raccolta di firme è arrivata quasi a mille e passa anzi ha superato i mille sostenitori è stata presentata depositata in comune e si è scatenata la guerra dei commercianti perché quelli vicini alla corte sì quelli vicino a Sant'Arcangelo faranno una contro una contro firma ci sarà però insomma non c'entra con la corte la disfida del commercio perché è un'altra un'altra questione poi scogliere altri 7 milioni per il progetto l'intervento dal metauro fino al porto questa è la zona che riguarda questo stralcio di lavori il dettaglio dei lavori e protezione delle spiagge illustrato dall'assessore durante la consuetta conferenza stampa bilancio niente aumenti delle tasse anche qui la questione del bilancio portata in evidenza dalla cecchietella giunta a prova il documento economico e rassicura su imposte e rincari il piano regolatore si delinea la città del futuro quelle che saranno le future dinamiche della città si va verso la modifica appunto del piano regolatore ma senza consumare il territorio questa era l'ultima notizia che vi davamo che leggevamo sulle pagine del messaggero grazie per essere stati in nostra compagnia c'è sempre comunque il nostro portale occhelanotizia.it per rimanere aggiornati oppure la pagina facebook se avete facebook con i lanci delle notizie grazie per essere stati in nostra compagnia Occhio e giornali torna lunedì mattina alle 7.30 e questa sera naturalmente come sempre la versione del sabato di Occhio alla notizia alle 20.30 buon sabato e buon fine settimana a tutti voi di Occhio alla notizia a tutti i giornali a tutti i giornali